Fai passato. Ragazzi un secondo, vorrei solamente esprimere il mio pensiero a quella di tutti. Siamo qui oggi per dimostrare che noi studenti, noi solidarietà futura, non abbiamo paura di questi atti di violenza. Insieme stiamo lanciando un segnale forte alle istituzioni, ai giornali, da queste culture così violenze, affinché non i gesti non si venivano più e affinché non prenderemo più i nostri giornali di giornata. Dunque tutti insieme dobbiamo manifestare per i nostri diritti, non per tanto per quello che è il nostro presente, ma anche per quello che è il nostro futuro. Grazie. Grazie a tutti.